eccoci questa è la sera conclusiva di questa 22esima edizione di rock in the casbah come vedete il palco si sta muovendo perché bisogna settare tutto perché tutto sia bello questa sera sarà un viaggio musicale composito perché davvero toccheremo molti molti generi non vado a disturbare i ragazzi sul palco perché bisogna andare dritto per dritto e lavorare vado invece dal mio amico massimo berben che chiuderà questa questa serata con finalmente un po di di canzoni sue dopo avere comunque reso ha reso la musica insomma italiana così udibile a tutti perché comunque hai fatto un tour un pizzeria e tour abbastanza abbastanza composito però adesso finalmente finalmente ci facciamo i pezzi nostri e di fatti è una figata proprio niente da sottovalutare le pizzerie tour come come detto te però fare questa sera i pezzi inediti per me è un grande onore soprattutto su un palco del genere che ti capita una volta forse all'anno no è bello adesso non è che vogliamo denigrare nulla però effettivamente per uno per uno che scrive no e magari è più difficile proporsi così con l'avventore medio del bar mentre invece un pubblico che ti sta ascoltare è quello che viene a sentire la tua musica ed è per questo che è nato rock in the casbah tra l'altro è stata una delle idee assoluta della rata macucca nel 2000 io la pala al balzo tac ci butto tutti quasi quasi tutti gli inediti mi piace portare anzi tengo sempre a dire che mi porto con sé sempre medio grisi perché un pezzo nuovo di medio grisi e questo è già solo per questo dovremmo essere presenti stasera direi bene grazie massimo ti guarda facciamo una roba veloce se siede luigi qua a fianco a me luigi allora è tutto a posto ho appena ho appena sentito un progetto strepitoso di black music resa in tutto in toto perché comunque c'è del funky c'è c'è il rap c'è di tutto c'è del rap hip hop funk new soul tutte le robe nuove che stanno uscendo le acchiappiamo le buttiamo dentro i nostri brand bello perché c'è tanta america in tutto questo e calabria tanta calabria e tanto saremo vecchi quello lì quello lì noi l'avremo sempre lo sai tu sei un abitante e potrai dire come abbiamo detto noi per inserire insieme a tommy abitate saremo vecchio perché non è vero che succedono brutte cose no è importantissimo abitare a saremo vecchio è la cosa più bella del mondo bene tra l'altro avremo anche una special guest americana però non diciamo nulla no non diciamo niente special guest è una sorpresa quindi se volete è americana è americana it's american boy what's american boy grande lu grande lu la special guest calabrese c'è sempre con noi nico veloce eccolo qua nicolas gruver tra l'altro tra l'altro tra l'altro e con una veste completamente non dico rinnovata no però così ampliata un po diversa questa volta perché faremo un inizio con drum machine quindi un po più elettronica e poi dopo ci accompagna luigi con una finale invece con live band però racchiude un po lavoro che abbiamo fatto nell'ultimo anno il disco che esce oggi infatti still one solution che infatti abbiamo fatto col covid quindi in periodi di cioè di chiusone quindi abbiamo dovuto lavorare in modo diverso però comunque eravamo già stavano sperimentando comunque su quelle cose di elettronica e quindi adesso sta uscendo questa cosa un po nuova però quindi la cosa bella avete avete capito che questa sera ci saranno novità sia da parte della della nicolas gruver sia da parte della ayahuasca family o society che sia che non ho capito bene quale sia delle due esatto questa è quella completa comunque quindi avremo novità e questo sarà una ventata di di aria fresca e di allegria quello che vogliamo quindi a questa sera grazie come sempre a sanremo news e insomma vi aspettiamo qui siamo sempre qua piazza buona dormo dalle 21 e 40 in poi ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti.